Bombe e bombe carte, tutto quanto Ecco, hanno avanzato le bombe carte, ma si, fumogine e bombe carte pure se le bombe carte c'è un'altra cosa o il danneggiamento alla sebe per il terreno però se poi riprende qualcuno ma è giusto che si manifesti con modo, educazione e rispetto di tutto tutto qua ma cos'è che l'ha fatto arrabbiare in particolare? non sono arrabbiato, non sono soggetto a questo io e i miei ragazzi, soggetto a tutte queste cariche qua ci sono di tutto addosso siamo operatori di polizia che lavoriamo tranquillamente però non siamo soggetti neanche a questo fotografate tutto quanto manifestare è giusto che si manifesta con educazione e rispetto ma non è la prima volta che succede per questo? siamo stanchi siamo stanchi